Ma che ci faceva qui? Ha lasciato qualche messaggio? Ah niente Non è sicuro padre? Sì certo È un gran dolore per tutti noi Nessuno poteva immaginare Che potesse prendere una decisione così estrema Nuovamente con vogliazia Aiuto 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 Allora Che dobbiamo fare? Non posso aver muerto Se rubai i soldi Se rubai No Io te pago per dormire No 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 Hai rotto il cazzo Emanuele Hai rotto il cazzo Emanuele No no Hai rotto il cazzo Emanuele Vabbè no scusa Hai rotto il cazzo Vabbè ma io lo scuso Che cosa stai parlando Paulina? Scusa il cazzo Io e Giuliano ci siamo incontrati Battaccia qua forza Avete parlato Dai Sì avrei dovuto Ma attaccia qua forza Ma io